Pregherei alla regia di inquadrare l'assistente donna che è una cosa inguardabile, è uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri su un campionato dove delle società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della federazione, una cosa del genere. L'arbitro è di Castellamare di Stabia, si tratta di Antonio Liotta, coadiuvato da Gianluca Caglianiello di Napoli e Anna Lisa Moccia della sezione di Nola, una cosa impresentabile per un campo di calcio.